Ciao e benvenuti in questo nuovo video! Noi siamo Leggiosi del CSB e nel video di oggi apriremo un pacco! L'abbiamo già un pochino aperto! Inviato da Magnino Valentino! Grazie mille! Abbiamo! Ci sei? Oh mamma! Questa è la tua! La leggiamo noi da parte! Una leggera! Cos'è? Questo è tuo! E' mio! Ce n'è uno anche per me? Questo è tuo! Per Marty questo è tuo! Questo è mio! Questo è tuo! Questo è tuo! Questo è mio! E questo è mio! Fantastico! Da quale apriamo? Lasciamo quelle più piccole! Va bene qui! Ma questo! Apriamo questo! Che bella la carta! E' bellissima! Io non voglio romperla! No, anche io! Allora la romperò! Come sono delicata! Mi sa che non riesco ad aprirla! Perché non riesco ad aprirla? Secondo me è una penna! Ti aspetto ad aprirla! L'hai già vista! Vai! No, aspetta! Non riesco ad aprirla! Ok, sì! Che belle! Ehm... Com'è che si chiama questo? Ehm... Qui! Ma sono i tuoi colori preferiti! Non mi apriamo questo! No, ma che c'era diverso! Cos'è? Io apro questo! Io apro questo! Io apro questo! Ora faremo molti esempi! Il prossimo! Non vederlo! Non vederlo! Che mi devo andare insieme! Non vederlo! Dimmi se ci sei! Ma sembrano le penne... Quelle che ci sono! Sai quei... No, però vedi! Dimmi se ci sei! Perché ci sono! Ci sono! L'ho già visto il tuo! C'è l'altra casa! C'è l'altra casa! Però tu aprirlo! Vai, vai! No, vabbè ti aspetto! No! Lo devono stroppare! Vai! Cos'è? Un profumo? Oh mamma! Che bella! Io credo che sia un profumo! No! È una cosa che ti fa andare nell'ospazio! Dai, metti! Che bella! Che bella! Bellissima questa qui! Prova! Io lo apro e lo faccio! Non è un profumo! Come fai saperlo? È una cosa che fa andare nello spazio! No, aspetta! No, aspetta! No, aspetta! Ma questa carta non si toglie! Perché non si stava dire? Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Che bella! Ma è tanto aspetta! Scusa! È buono? Non lo so! Devo ancora sentirmi! Devo ancora assaggiarmi! Ma che di longa! Ora riesco! Che bella! Che bella! Che bella! Eh, guarda! Questa è! Facciamo un pezzo! è buonissimo aspetta devo togliere devo togliere il robot e te lo do torta grazie è buonissimo no brucia il caglio cagli tieni io senti che è buono ma la c'è i brilantini? si ma sulle mani dove c'è i cagli? no a me bruci qui ora prendiamo allora quindici motivi per ricordarti che sei fantastica per Marti da Giulia io ho scritto la stessa cosa e ci ne è uno ogni mattina leggile uno ogni mattina anch'io oh mamma apriamo oggi era mattina va bene apriamo quello di oggi si può definire mattina? no perché sono stati medie giorni mi ha mai messo sui brilantini va bene ma guarda la mia mamma bellissima ma non dobbiamo vai sì quello di oggi ci sono dei bigliettini io prendo quello giallo anch'io questo qui non arrenderti mai grazie bello e se sei triste pensa ad una scimmia se sei triste pensa ad una scimmia che balla e vedrai che ti spunterà il solito mi sa che è il tuo questo sì aspetta 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 vabbè fa niente Marti vabbè fa niente grazie bello grazie mille abbiamo ancora questo e poi abbiamo ancora questo è pesante questo qui mi sa che è un libro shut up ora io prendo questo qui e lei è quello io lo strappo anch'io no è un mio troppo bello dimmi se ci sei è troppo bello sa che è questo sì è troppo bello mamma che bello ma io ce stavo aspettando scusami oddio lo scotch guarda cosa ah li stavo aprendo stai facendo un video sì 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 che bello io se lo faccio solo te la sei questo qui per tutte e due e se vuoi prendere il prossimo vuoi tenere lo scudo tu sei di colpa sì questo qua è di tutte e due vuoi tenere lo scudo lo tengo io no ora vai a aprire questa parte io ci sono aspetta aspetta non fa niente mamma che bello che bello cos'è non l'ho capito ma vai cosa c'è sono caramelle sono caramelle me l'ho mangiata tutto io grazie aspetta dammi a me cerchiamo prima sweet holiday sono caramelle sono caramelle vacanza vacanze apriamo è dolce vacanze allora eh ora lo apro cioè lo apriamo aspetta ma qui ce l'ho scosto ma cosa c'è lì c'è fatta c'è c'è mamma chiusura no ma no no ma raga io ho paura di spaccare ma ti mette nel latte quello cos'ha no raga ma sai cosa per la doccia è per la doccia è un bagno a schiuma è nella vasca si mette nella vasca si ma questo è nel latte vi giuro c'è pieno è la latte questo e cagono tutti nella vasca e poi fate il bagno fantastica ma noi lasciamo per la doccia la stessa cosa no perché la doccia non la puoi grazie mille Giulia speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale vi lasciate 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 la campanellina per ricevere il mio oficina si e inviateci altri fatti vogliamo anche noi ragazzi anche noi tantissimi solo io ciao ciao adios adios adios